Diamo il benvenuto invece alla nostra ospite che ci ha raggiunto qui da terre lontane, no in realtà è qua vicino, adesso poi scopriremo bene dove. Alessandra Cossar, buongiorno! Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora Alessandra è una di quelle temerarie che ha deciso anni fa di aprire una libreria. Esatto. Però funziona alla fine, vedi? Si può fare! Si può fare, sì. Dicevo, ci hai raggiunto chissà da dove, no in realtà siamo qui vicini perché siamo sempre comunque qui nei satelliti dello stadio di San Siro, diciamo, no? Ricordaci dove è la tua libreria. Allora San Siro, quasi all'ombra dello stadio perché sono in via Capecelatro e in una zona che è di stampo prettamente residenziale. Quindi, come dicevamo, temeraria no, però sicuramente in una controtendenza perché le librerie sono leggermente in sofferenza, prevale un po' quest'idea di portare delle realtà di quartiere che siano anche da aggregazione. Infatti ne parlavo prima, leggendo anche le giornali, insomma di come ormai è fondamentale fare questo tipo di aggregazione. Ma non solo, cioè non è una mera trovata commerciale per vendere un libro in più, ma è proprio per far diventare quel luogo qualcosa di diverso quasi, no? Sì, esattamente. Anche perché c'è una gran sete di aggregazione, soprattutto in alcuni quartieri dove l'offerta è tutto sommato abbastanza ridotta. E questo oltretutto è riferito a tutte le fasce d'età. Abbiamo detto dove, non abbiamo detto come però, come si chiama l'alberia? La libreria si chiama Libri e Collane d'Autore perché nasce da un gioco di parole, un bizzarro gioco di parole. Che si può capire anche vedendoti con quello che è il collo, possiamo collegare le cose? Lo possiamo collegare anche se non voglio essere autocelebrativa perché effettivamente faccio gioielli, ma le collane sono in realtà le collane editoriali. Quindi questo è per dare, insomma, sempre un tributo alla parte più nobile della questione, però effettivamente anche i gioielli lì creano e hanno un loro ruolo molto preciso. Beh, insomma, leggere con stile ci può stare, no? Perché secondo me devo leggere sempre in pantofono, posso leggere anche con un bel gioiello addosso, no? Volendo. Assolutamente. Aggregazione che è diventata fondamentale, appunto, diciamo, per le attività come la tua, anzi che creano l'aggregazione delle attività come la tua. Allora, la cosa interessante è che appunto in un quartiere prettamente residenziale poi si diventa appunto di riferimento, spesso volentieri però. Per qualcuno sicuramente sì, faticosamente andando avanti un passo alla volta, però bisogna dire che c'è adesso già un gruppetto di affezionati che partecipano alle tante attività proposte. E allora di queste attività, di queste tante attività ce le racconti oggi perché ce n'è una che sta arrivando, anzi, velocemente dimmi quella più prossima che proprio è domenica, no? Giusto? Che si inaugura. Quella più prossima, allora domenica avremo l'inaugurazione di una mostra d'arte, anche se già oggi nel pomeriggio avremo ospite, comunque un'autrice in libreria che ci parlerà di poesia. Non ci si ferma mai, quindi, qua punti a dire, ok, raccontiamo bene cosa succede domenica, no, ma aspetta, ferma, perché oggi, venerdì, a che ora, proprio lo raccontiamo meglio? Alle ore 16.30. Ecco, vedi, chi viene a legge? Elena Diomede, con Ededalo e me, anagramma del suo nome, raccolta di poesie. Ah, bene, allora adesso poi ce lo racconti meglio dopo la prossima canzone, perché appunto capiamo come il calendario invece è fitto di appuntamenti e potete appunto passare di lì via Capiacellato, giusto? Numero? 75. 75, all'ombra dello stadio di San Siro, finché c'è, ma bene che tanto adesso se non c'è più quello ci sono le torri che stanno costruendo di fianco, quindi va bene, e poi comunque passate e conoscerete sicuramente una realtà interessante di cui appunto parliamo questa mattina qui a Good Morning Milano. Snap, Rhythm is a Dancer, 8 e 14 minuti, anzi quasi 15, Crystal Radio, venerdì 18 ottobre. Parliamo di libri, di collane d'autore, anzi della libreria appunto, libri collane d'autore di Alessandra Cossar. Oggi dovremmo parlare appunto di un evento che ci sarà nel weekend, ma poi insomma parlando veniamo a scoprire che ce ne sono non uno, ma ben due prima del weekend in realtà, giusto? Due bene oggi oltretutto, il giorno che vuoi piove c'è lo sciopero dei mezzi, proprio ti piace fare le cose difficili Alessandra? Mi piace andare controcorrente e devo dire ringrazio gli audaci che riescono comunque a vincere queste ostilità. Quindi a che ora iniziamo oggi? Alle 16.30 avremo appunto la presentazione di questa poetessa, di questa raccolta di poesie ed edalo in me, che invito sicuramente a conoscere, soprattutto agli appassionati di poesia, mentre proseguiamo la serata, questo alle 18, con il nostro consueto cabaret letterario. Cabaret letterario? Cos'è, cos'è, cos'è? Raccontamelo. Il cabaret letterario è un incontro che noi abbiamo una volta al mese, che è una sorta di circolo della lettura e non solo, quindi non si è obbligati a portare un libro, ma gli iscritti portano, legati ad un argomento che lanciamo, che in questo caso, oggi non a caso, sarà ovunque può esserci poesia, ognuno può portare, che sia uno scritto, un'opera d'arte o musica che possa evocare l'argomento, e poi c'è un'autrice che tira le fila e c'è un dialogo intorno a quest'argomento del giorno. Bene, bene, bene. E si ride anche, no? Cabaret nel senso, o più cabaret nel senso di paste? Lo chiamiamo, no, è cabaret perché in realtà c'è un po' di tutto, c'è un'alternanza di tanti argomenti, c'è insomma, dal serio al faceto. Ah, bene, bene, bene. Ma adesso invece arriviamo a quello che succederà appunto nel weekend, perché nel weekend si apre, io dico l'ennesima, nel senso buono del termine, esposizione e mostra nel tuo spazio, no? Spesso ce ne sono tante, no? Questa volta è il turno di chi e di che cosa? Allora, questa volta è il turno di Milo, che è un artista bresciano, nome d'arte di Lorenzo Mucchetti, che ha il suo atelier a Brescia, è un artista promotore della realtà permanente, e porta, diciamo, un messaggio particolare con le opere che noi esponiamo in questo momento, perché sono un po' fuori da quelle che normalmente propone, perché sono delle immagini che alla fine vogliono fare un po' una denuncia su quello che è il degrado dell'uomo, riferito all'ambiente, animali, eccetera. Quindi, opere molto interessanti, che si rifanno un po' allo stile di Mimmo Rotella, un po' la pop degli anni Sessanta, quindi c'è questa sfogliazione di collage, di manifesti, che poi vengono un po' strappati, e c'è un tripudio di colori. Adoro con lo stile, io adoro con lo stile. Devo dire che sono delle suggestioni molto interessanti, è comunque stato pubblicato anche sul Grande Atlante dell'Arte di Agostini, perché è stato scoperto appunto da Dunil, il quale, insomma, l'ha pieno titolo inserito tra gli artisti di talento e interessanti italiani del momento. Quindi, domenica avremo questa inaugurazione. Eh, domenica è in augurazione, poi per un mese, giusto, rimarranno le opere esposte nel nostro spazio. E si può venire, quando tu sei aperta lì, quando la serranda è su, si può venire, giusto? Orari, libreria, si può venire tranquillamente a visitare l'esposizione, questo dal 20 di ottobre al 20 di novembre. Eh, questo è che è interessante, ma perché appunto diventa l'arte in tutte le sue parti, a quel punto, perché appunto anche l'ipo può essere arte, ovviamente, ma anche le collane possono essere arte, in questo caso anche i quadri possono essere arte, e arrivano ed entrano nella nostra vita quotidiana, nella bottega sotto casa, e quindi siamo ben contenti appunto di sapere che esistono ancora luoghi così di cultura nella nostra città. Paola e Chiara, insieme a Big Mama, il linguaggio del corpo, di linguaggio stiamo parlando non solo del corpo, beh, in realtà forse anche del corpo, perché sicuramente avrei fatto delle, ma Alessandra, sicuramente avete fatto delle mostre di fotografie, cose c'è sicuramente, quindi insomma tutti i linguaggi sono toccati nella tua libreria. Direi di sì, anche se è tutto capitato un po' per caso, perché come si sa ogni tanto nelle cose si inciampa, perché la libreria è stata aperta, mettendo insieme queste due cose che mi appassionavano, quindi il mondo dell'editoria, e l'altro il fatto che io facessi gioielli artigianali. Quindi costruendo all'interno della libreria dei percorsi, perché di questo si tratta, perché io poi presento delle stampe di personaggi storici addobbati coi gioielli con vicini o i libri a tema, alla fine questo un po' mi ha valso una certa attenzione da parte invece di chi più professionalmente di arte si occupa, suggerendomi anche di inserire delle cose proprio invece con degli artisti. Quindi è iniziata una collaborazione prima con, ci sono stati dei ragazzi che hanno partecipato alla Biennale Le Arti Possibili, quindi che sono stati vincitori del liceo Stendhal, che hanno fatto una loro mostra, poi da quello ne sono nate delle altre, le più recenti, quella con Simona Cuzzupoli, con i suoi favolosi Diorami, che espone e lavora con Bottega Brera per le Gallerie d'Italia a Torino, quindi che fa proprio questi mondi che sono fantastici, da lì ce n'è il paese. Minuscoli poi alcuni, ci sono dei dettagli che sono veramente infinitesimali, in alto che millimetrata, molto meno quasi. Assolutamente, magici proprio. E adesso avremo Milo. Però appunto tu hai queste due grandi passioni, dalla parte appunto l'editoria e dall'altra il fatto che facevi gioielli, però avresti potuto tranquillamente andare a fare l'impiegata in un'azienda editore-editoria e farti i tuoi gioielli per le tue amiche a Natale e regalarli, punto. E invece no, perché com'è che poi passi a fare proprio l'imprenditrice di te stessa, diciamo? Ma allora dunque, innanzitutto, vabbè, di libri mi sono sempre occupata, quindi, ma in maniera diversa, perché facevo il distributore. Ho deciso poi di aprire invece una finestra sul mondo e di avere quindi un'attività che fosse accessibile a tutti e lì ho sperato e ho cercato e credo e spero di esserci riuscita di portare un angolo di bellezza, perché un po' in controtendenza ad un appiattimento che c'è riferito a tante attività, senza nulla togliere, però il cercare qualche cosa di diverso e un luogo dove le persone potessero sentirsi a casa. Buttare l'angolo ancora e dire mi siedo anche volentieri a sfogliare un libro. Ecco, e voglio anche fare, strappare una pagina a favore dei messaggi, invece di uno spezzo lancio ma strappo pagine, in questo caso che è una blasfemia, credo, per qualcuno che vende i libri. No, però tutto questo senza essere, lasciate passatemi il termine, dei pesantoni, perché in realtà nel tuo posto, nel tuo negozio, nel tuo libreria, si ride tanto anche. Cioè questo è il bello, nel senso non è quella roba di dire mamma mia, adesso andando al circo del libro con questi pesantoni che mi fanno leggere Kafka e non me lo fanno neanche capire. No, invece, è tutta un'altra storia qua. Assolutamente sì, assolutamente sì. Parto dai giovani lettori, diciamo che sono quelli del futuro, quindi con dei libri per bambini che sono veramente belli. E poi sì, si viaggia attraverso la storia, ma molto anche attraverso l'arte e cose anche fotografiche, insomma cose che possano veramente piacere, ma tutte selezionatissime, questo sicuramente. Ogni libro viene scelto da mettere dentro la mia libreria. Eh, c'è un grande lavoro appunto dietro. Come fai a... sicuramente leggerai tantissimo, sicuramente sfoglierai tantissimo, ma come fai ad andare a scovare spesso e ventieri anche? Allora, dunque, alcune cose sono proprio un po' di pancia e altre invece, quelle che leggo, sono molto anche quelle degli autori che adesso presento nella libreria, quindi paradossalmente non dico che legga meno di prima, però sicuramente sono già delle letture che sono proprio finalizzate anche alla scelta dei testi. Cosa legge invece Alessandra quando vuole leggere qualcosa di suo? Cioè, per non pensare al lavoro, cosa leggi? Beh, saggi sicuramente. Poi mi piacciono moltissimo le autobiografie e poi, vabbè, senz'altro l'arte e la storia. E tutto questo alla fine lo ritrovate, lo rivedete, proprio nella costruzione anche, diciamo, del luogo fisico che io vi invito appunto ad andare a vedere in Via Capecelato. Ci fermiamo qualche secondo, un po' di musica, due consigli per gli acquisti e poi torniamo ancora qui a parlare con Alessandra Cossar, parliamo di libri, parliamo di cultura, parliamo di quartiere, parliamo di territorio, parliamo di tutte queste cose messe insieme perché esistono e si possono anche fare molto bene. Fino a Milano, Alessandra, è la prova di questo. Panja BMC, oggi alle 8.35 minuti, mi raccomando, tenete le mani sul volante. Lo so che avete cominciato a mettere le mani sopra la testa, di fianco alle spalle, avete cominciato a muovere la testa avanti e indietro, mi raccomando, state guidando, tenete le mani sul volante. E se siete in ufficio non andate adesso dal capo a chiedergli l'aumento in versione Bollywood, mi raccomando. So che magari vi ha influenzato questo, ma non fatelo. Invece quello che dovete fare è andare oggi alla libreria Libri e Collane d'Autore, questo è il titolo corretto, di Via Capecelato, di Alessandra, perché è Alessandra Costa, perché appunto c'è tanto oggi da vedere, ma anche domenica. Ricordiamo velocemente i tre appuntamenti, poi... Presentazione del libro Ed Edalo e me, oggi ore 16.30, ore 18, cabaret letterario con Rosa Parrella, e ovunque può esserci poesia, portato uno spunto, e domenica dalle 15 alle 18.30, inaugurazione della mostra pittorica di Milo, con presente l'artista. L'artista, ma quanti eventi hai fatto più o meno da quando è aperto ad oggi? Hai un conto approssimativo, qualche centinaio, quanti? No, non saprei, però diciamo senz'altro almeno uno al mese. Almeno uno al mese? Bene, almeno uno al mese. Ecco, ma come nasce l'interesse per certi tipi di eventi che fai? Allora, uno è nato proprio dall'impostazione stessa della libreria, che in realtà è costruita con delle scenografie. L'idea è proprio quella di poter portare degli artisti, anche magari a livello semplicemente di stampa, di poster, e facendo degli allestimenti, dando l'opportunità anche ai più piccoli di arrivare in una libreria e girare tra gli scaffali come se fosse una mostra. e queste sono scenografie però che io faccio. E poi ci sono quelle più nobili, quindi invece con artisti autentici che vengono con le loro produzioni e quindi si presentano. Diciamo che alla scenografia si aggiunge anche la sceneggiatura in quel caso. Esattamente, esattamente. Si va proprio in scena. E tutto questo voi penserete, no, è ovvio, tutto questo in un grandissimo open space di 400 metri quadri. Quanti metri quadri c'è la libreria? Molto piccola, purtroppo, è il suo limite. Però posso dire che... Eh, ma vedi, tu dici, purtroppo è il suo limite. Ma invece è il suo bello. Sembra che... C'era questa cosa, non so chi di voi è appassionato di Dottor Wu, c'è il Tardis, che è questa navicella con cui lui viaggia, che è una cabina nel telefono vista da fuori. Poi quando si apre la porta, è dentro gigantesca. La battuta classica è più grande dentro di come è fuori. In realtà quando si... Da fuori è una vetrina. Farò una battuta, dico che è più grande perché è fatta grande da chi c'è dentro. Vedi? Oh, bravissima. Poi quando si entra davvero sembra immensa. Sembra sconfinata quando si entra dentro. Come si fa a fare questa magia? No, la magia non si sa, è perché tutto viene nascosto sotto i tavoli, sotto... Per fare spazio poi alle persone che arrivano, che quando effettivamente le proposte sono interessanti, sono anche disposte a stare abbastanza appiccicate. Ecco, quindi se uno riesce a superare questi limiti, poi è un salotto accogliente, io spero almeno, e almeno da quello che mi viene riconosciuto. Quindi quando dico fatta grande da chi c'è dentro, non intendo me, ma naturalmente dai frequentatori, quelli che arrivano e che arricchiscono quello che poi è la proposta. Diciamo appunto che il quartiere in cui sei inserita è un quartiere prettamente residenziale. Cioè, pochi di qualche negozio vicino a te, pochi, ahimè, alcuni chiudono anche. E come era esposto però il quartiere appunto? Mi ha detto, adesso ci aprono la tintoria, invece poi mi sa che aprivano la libreria. Com'è che è andata? Ma allora dunque San Siro, come poi tutti i quartieri, alla fine è come se avesse una sorta di braccia che arde sotto la cenere. Così come io, che da sempre vivo lì, in realtà ho avvertito la necessità e ho sempre pensato che ci dovesse essere qualcosa, ho detto, ci sarà qualcun altro come me con le stesse necessità. Quindi io ho detto, perché andare lontano da qui? Gioco in casa e cerco di portare una proposta che arricchisca il quartiere. L'ho fatto anche un po' egoisticamente, forse per me stessa, no? Come proiezione del mio desiderio. E di fatto qualcuno in effetti questa necessità l'aveva e la risposta c'è. Eh, la risposta c'è. Perché appunto questi eventi, come dicevamo, poi pigi, pigiati, pigiati, ma poi il pubblico in realtà c'è e la gente viene a frequentare, no? Che è la cosa più bella, che non è solo clienti, ma appunto sono frequentatori, che è ancora più bello. Continuiamo con un po' di musica e poi continuiamo qui ancora, perché abbiamo ancora un paio di cose, voglio sapere ancora un paio di cose su com'è la vita da Libraia. Sono molto molto curioso, qui con Alessandra Cossar, in diretta su Crystal Radio. Good morning, Milano. Per due come noi, Olli e Angelina Mango, qui su Crystal Radio. Good morning, Milano. Allora, al 3317853555 arrivano richieste di dicci bene dov'è la libreria, perché non hanno capito, sono persi molto probabilmente all'inizio dov'era e quindi ripetiamolo, perché vogliono sapere le coordinate GPS per raggiungere Alessandra. La libreria è in via Capecelatro 75, quindi vicinissima allo stadio. Mi si può trovare anche su un sito web che c'è, che è libri e collane d'autore.com libri e collane d'autore.com Tutto attaccato, mi raccomando. Oppure su Instagram, libri e collane d'autore.com Sui social, sui social. Ma quanto è dispendioso stare dietro a queste cose? Parliamo, parliamo, diciamolo, diciamolo. Ci arrangiamo, dai. Sai che io sono anch'io di questa parrocchia, nel senso che diciamo è bello, facciamo la storia, ma anche quello no, e invece bisogna farlo. Ma non si diventa ricchi, quello si fa perché c'è passione, ovviamente, quindi... Questa è la passione che muove tutto, no? Ecco, la passione che mi sembra tu stia però anche riuscendo a trasportare in chi viene. Sì, sì. Com'è? Che cosa chiedono e cosa vogliono le persone che vengono da te? Cosa cercano, anzi? Allora, innanzitutto, senz'altro, tutte le cose che sono state proposte sono anche nate proprio da alcune indicazioni che ho raccolto qua e là. Quindi, il cabare letterario, per esempio, adesso tu giustamente mi chiedevi ma cos'è? Si ride, non si ride? È nato dal fatto che, per esempio, nei circoli della lettura che avevo tenuto avevo osservato che magari era difficile per tutti stare al passo con la lettura del libro. Ok. Quindi c'è chi ne legge 5 ed è un bulimico dei libri e li legge in un mese, c'è chi legge di meno, c'è chi è rimasto indietro perché ne sta leggendo un altro, mentre c'è una voglia di aggregarsi. Quindi il cabare letterario, lanciando un argomento, visto che tutti hanno voglia in realtà di incontrarsi e confrontarsi, dà l'opportunità di parlare di cultura a tutto tondo perché si parla di musica, di arte e di tutto, però legato a un argomento che è diverso perché ognuno porta il suo e così va in scena con il suo contributo. Tu quando è che hai aperto, mi dicevi, nel... Nel 20. Nel 20. Pieno Covid. Infatti, quando poi, insomma, la voglia di aggregarsi all'inizio era... siamo assopiti dalla paura di aggregarsi, no? Assolutamente, assolutamente. Com'è cambiata la gente in questo periodo? Allora, diciamo che... Ma se l'osservatrice è importante da questo punto di vista perché li vedi. Sicuramente. diciamo che l'avere aperto durante il Covid non ha aiutato anche se le librerie erano aperte come le farmacie. Quindi questo mi ha dato l'opportunità. Per me è stato salvifico perché ho potuto dare il mio contributo creativo. Quindi in quel momento io ho potuto organizzarmi, fare una serie di cose. L'utenza, naturalmente, era molto limitata. Mi guardavano con curiosità ma magari si tenevano alla larga. Non tutti avevano il coraggio di entrare. E la immagine, infatti. Però è stato un momento un po' di cristallizzazione in cui ho potuto valutare quando fossero per esempio i flussi, quando la gente si muove, quando la gente ha voglia. Infatti io per esempio il sabato sono chiusa, sono aperta solo il sabato mattina perché il sabato la gente si sposta verso il centro, fa la spesa. Se faccio le iniziative è più la domenica perché diventa la domenica del villaggio. Ecco. Quindi se proprio uno non va via, non fa il weekend, non ha niente, magari scende e gli fa piacere che ci sia qualche proposta. È molto bella questa immagine del magari scende perché fa capire proprio come davvero sei di prossimità quando si dice in questi casi. Sei quella della porta accanto in questo caso. Sì, assolutamente sì. La tua utenza arriva quasi tutta appunto dal quartiere immagino. Dal quartiere ma c'è adesso qualcuno che sfida le distanze. Quindi posso dire ecco questo è forse l'upgrade chiamiamolo nel senso che davvero adesso c'è qualcuno che invece prende la metro attraversa Milano. E queste sono soddisfazioni e che soddisfazioni perché se uno attraversasse la città a volte non è così semplice ma se lo si fa e lo si fa per qualcosa di davvero davvero interessante. Lady Gaga insieme a Beyoncé con telefono alle 8 e 50 minuti da 5 minuti è iniziato lo sciopero dei mezzi al momento risultano chiuse M2 ed M4 ma rimaniamo un attimo così con le orecchie e gli occhi sul sito di ATM sulla app perché potrebbero esserci nuovi risvolti. Ricordiamo fino alle 15 va in scena lo sciopero e poi questa sera dalle 18 fino a fine servizio. Se però riuscite a muovervi prima potete arrivare ad Alessandra senza problemi ma poi il tram passa mancada venite col tram col 16 che tanto quello passa sempre non è un problema verissimo giusto o no e allora siamo arrivati alla fine della nostra puntata siamo arrivati alla fine di questa bellissima chiacchierata insieme a te ricordaci bene tutte le coordinate tu quello che vogliamo sapere sulla tua libreria e anche a questo punto lo so te l'ho fatto ripetere mille volte ma sai la radio è così c'è chi la accende chi la spegne chi passa chi non passa ricordiamo bene gli appuntamenti di oggi e di domenica allora libri e collane d'autore via capecelatro 75 sito www.libriacollanedautore.com oppure mi trovate sui social e oggi ore 16.30 presentazione della poetessa della raccolta idee d'Aloime ore 18 cabaret letterario con Rosa Parrella mentre domenica 20 dalle 15 alle 18.30 inaugurazione della mostra di Milo con presente l'artista vi aspettiamo numerosi e la mostra andrà avanti comunque dal 20 di ottobre al 20 di novembre insomma c'è davvero davvero tanto in questa bellissima libreria che vi invito ad andare a conoscere e a scoprire appunto in via capecelatro Alessandra grazie mille di essere qui con noi grazie a voi tanto so che appunto di eventi nei tanti quando sarà il prossimo ti aspettiamo qui ancora per raccontarcelo volentieri ci potremo anche i protagonisti mi piacerebbe portati la prossima volta una delle tue aficionados delle tue elettrici che mi piacerebbe intervistare anche lei oltre a te va bene volentieri va bene dai grazie mille Alessandra Cossar grazie per tutto quello che viene fatto anche appunto nei quartieri per come vengono vissuti questi quartieri adesso ancora una canzone e poi torniamo per i saluti finalissimi qui adesso è il momento di Rettore Edito nella Piaga grazie a tutti